Un apparecchio per il controllo elettronico della velocità a postazioni fisse è stato installato dal comune di Melicucco presso il tratto di pertinenza comunale della SS 682 strada Grande Comunicazione Ionio Tirreno al chilometro 5 più 950. Al fine di contrastare il fenomeno degli incidenti stradali, spesso con esito mortale connessi all'alta velocità e al mancato rispetto dei limiti, il comune ha disposto nell'ambito del proprio territorio comunale dei controlli tramite apparecchiatura autovelox e riporta l'avviso pubblico diramato dalla stessa amministrazione locale sulla propria pagina istituzionale. Si tratta di un dispositivo bidirezionale che sarà attivato giorno 28 luglio 2023 alle ore 20 operando 24 ore che si aggiunge alle 6 postazioni fisse segnalate già in essere sull'arteria e da quelle immobili adoperate in maniera occasionale dalle forze dell'ordine che monitorano i diversi tratti dell'asse vario lungo da Rosarno a Grotteria poco più di 38 chilometri.